Musica Presso la sala Sant'Agostino del Palazzo Broletto si è tenuta la presentazione del progetto MAPS Traiettorie per orientarsi nella messa alla prova Ai nostri microfoni Aurelio Bizioli, Presidente Area Società Cooperativa Sociale ITS Cooperativa Sociale attiva sul Garda e soprattutto sulla Valsabia che insieme ad altre realtà, soprattutto realtà pubbliche e locali quindi gli ambiti sanitari ha organizzato queste iniziative di sostegno al disagio giovanile sono iniziative varie che noi stiamo portando avanti da parecchi anni con realtà di vicinanza ai giovani in difficoltà giovani che risentono in modo critico e che gestiamo direttamente sul nostro territorio attraverso varie iniziative il centro di uno per minori, la trekking therapy tutta una serie di iniziative di cui oggi presentiamo uno di questi progetti che è MAPS MAPS che è un progetto fatto anche con l'ambito 9 e che cerca di sviluppare questo nostro aiuto verso i giovani in situazioni di disagio Entriamo nel vivo del progetto Sentiamo le parole di Nicola Maccioni direttore area Società Cooperativa Sociale ITS un progetto che ha un moto ben preciso ciascuno cresce solo se sognato il progetto MAPS che oggi presenteremo è un progetto che si rivolge ai minori autori di reato e che sono immessa alla prova c'è un dispositivo che il Tribunale Primereni può segnare dei ragazzi che hanno la possibilità di ripercorrere il reato e di in qualche modo riparare al reato commesso questo progetto infatti attraverso una serie di mappe quindi di percorsi rivolte ai ragazzi hanno la possibilità di reinserirsi nel tessuto diciamo sociale attraverso una serie di iniziative personali e anche di gruppo Grazie 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 Grazie